Ciao a tutti, benvenuti all'inaugurazione dei Docs Dora 2710 2018, è una struttura enorme come potete vedere dove si possono fare un sacco di allenamenti ma sempre con la stessa metodologia che è la metodologia dell'EMS, elettromiostimolazione e full body, quindi si allena tutto il corpo contemporaneamente senza solicitare articolazioni e tendini. L'allenamento dura 20 minuti e può essere personalizzato in base alla propria conformazione fisica e in base agli obiettivi che ha ognuno di voi. Gli allenamenti poi verranno strutturati singolarmente oppure con delle classi di gruppo. Alleniamo ininterrottamente tutto il giorno, quindi siamo aperti dal lunedì al sabato compreso dalle 8 del mattino fino alle 9 di sera. Vi aspettiamo per provare questa fantastica metodologia di allenamento, 10 minuti per dimostrarvi che cosa vuol dire allenarvi con tutto il corpo contemporaneamente. Vi aspettiamo!